Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Prima di entrare a piedi pari su quello che sarà l'argomento di discussione più interessante di oggi e che riguarderà i portieri della Juventus, un paio di digressioni. Intanto una personale, perché ieri mi sono sentito in dovere di pubblicare un video sfogo e ho visto che le reazioni della community sono state meravigliose. Non avevo dubbi a riguardo, ma non era nemmeno scontato, perché è ovvio che quando uno si mette qui e decide di iniziare a pubblicare video e soprattutto decide di utilizzare internet come strumento di diffusione di pensieri, di ragionamenti, di opinioni, si mette anche di principio in conto il fatto che queste cose accadranno. È una sorta di legge non scritta, quando arrivi su internet e decidi di fare determinate cose, allo stesso tempo sai che dovrai accettarne altre. Quindi anche poi mettersi qua e fare video come quello che ho fatto ieri è inutile, perché non serve a niente. Quel video di ieri non ha cambiato quella che è la percezione dell'utente medio di internet, non ha cambiato l'educazione dei maleducati, non ha portato cultura agli ignoranti, i maleducati e gli ignoranti. L'utente medio di internet rimarranno esattamente così. Quindi so io in primis l'inutilità di un contenuto del genere che invece è stato visto, compreso e apprezzato soltanto da quella frange, da quello zoccolo duro che compone una community importante come la nostra, che per fortuna nell'arco di dieci anni si è ampliata sempre di più e che a questo punto si sta preparando per toccare l'incredibile quota 250.000 iscrizioni, quindi numeri veramente da capogiro. Avevo semplicemente bisogno io di parlarne a voce alta, di dirlo a voce alta, perché questi sono tanti concetti che sono presenti nella mia testa. Sono frutto di analisi, di ragionamenti, di osservazioni di quello che è il pubblico di internet. Tutte osservazioni silenti, tutte cose che quotidianamente io vado a prendere in considerazione. Poi però arriva un punto di rottura, quando proprio non ce la fai più a tenere tutto dentro, hai necessità di dirlo ad alta voce. E non era scontato la comprensione da parte dell'utenza, praticamente della totalità dell'utenza, come avete fatto voi, che avete risposto presente, avete dato tanta solidarietà, tanto affetto e ti ho scritto anche dei bei messaggi. Gli ho letti tutti, tutti i commenti li ho letti, tanti li ho addirittura cuorati, alcuni ho risposto, quindi grazie, davvero grazie, perché ieri ho avuto un piccolo momento di debolezza, un piccolo momento di debolezza che fa parte di quello che è la mia professione, quindi sono pienamente consapevole dei rischi, sono pienamente consapevole di quello che uno deve accettare per stare su internet, però sono umano anch'io e quindi l'essere umano a un certo punto può avere necessità e bisogno di dire ad alta voce le cose che sa, che conosce, che affronta quotidianamente, ma bisogna semplicemente ritirarsene fuori. E mi è servito tanto, sono molto più rilassato rispetto a ieri e pronto a riprendere il cammino all'interno di questa stagione che appena iniziata ci ha messo di fronte il primo ostacolo e ora avremo già un altro grande incredibile ostacolo proprio domenica a San Siro contro l'Inter. Quindi lasciamo da parte il video di ieri, è un cappello introduttivo che dovevo fare perché siete stati molto carini nei miei confronti e non potevo lasciare passare inosservato questa gentilezza. Grazie mille a tutti. E proprio di Inter parliamo nuovamente per due concetti, andiamo ad aggrapparci, ad agganciarci dopo questa premessa a due idee legate all'Inter. La prima, un contenuto che vi consiglio. Proprio qui l'altro giorno in occasione del match day di Juventus a Stoccarda avevo risposto al commento di un ragazzo che mi chiedeva perché qua non fosse solito trovare contenuti sulla curva dell'Inter. Ho già spiegato le mie motivazioni ma quando escono dei contenuti importanti e interessanti come quello di ieri pubblicato in live sul canale YouTube del Bianconero, dai miei amici Romeo Agresti, direttore del Bianconero e Colpo Gobbo, host del Bianconero, non posso fare altro che consigliarvelo. Ve l'ho lasciato nella sezione community, quindi andate nella sezione community del mio canale. C'è il link diretto al video che è pubblico, disponibile e ne consiglio assolutamente la visione e la comprensione perché c'è un ottimo Federico Ruffo, conduttore di Mi Manda Rai 3, giornalista preparatissimo sull'ambiente curve, sull'argomento curve e su tutto quello che va ad appartenere a un caos estracalcio che non ci portiamo dietro sicuramente da quando è scoppiata questa discussione legata alle curve di Inter e Milan, ma è un problema ben più antico e che ben informati discutono da tanto tanto tempo. Argomento che mi appassiona poco, sapete a me piace molto di più parlare del calcio giocato, ma non significa che vada a ignorare queste cose, semplicemente sto zitto e ascolto chi ne sa di più di me. E assolutamente Federico Ruffo ha fatto una disamina perfetta, secondo me, di quella che è la situazione attuale. Vi consiglio il contenuto veramente un'ora che va giù, tranquilla anche se si parla di argomenti complicati, di argomenti scottanti, di argomenti delicati, perché comunque stiamo parlando di mafia, di andranketa, non stiamo sicuramente scherzando, sono argomenti che vanno trattati nel modo giusto per quanto mi riguarda e ci sono riusciti benissimo, quindi bravi bravi tutti quanti. E ora finalmente partiamo a parlare invece di quello che è l'argomento sportivo di campo, lo so dopo sei minuti, ma erano veramente due argomenti che ci tenevo a trattare in questo momento anche un po' più scarico, dato che abbiamo giocato e adesso abbiamo qualche giorno di recupero, giorno che ci farà bene per allontanare le scorie, le tossine che sono arrivate dopo questa sconfitta. E lo sappiamo bene, secondo me ce ne siamo accorti tutti, che sono arrivate un po' di scorie, di tossine per una semplice sconfitta, la prima sconfitta stagionale. Ma ieri, quando ho iniziato a leggere quella che potrebbe essere una conferma di Perin tra i pali contro l'Inter, dopo il rinnovo di Perin fino al 2027, una piccola lucina si è accesa in me e mi sono fatto una domanda e l'ho scritto subito ieri sera su X. Ma tra Perin e Di Gregorio oggi quanta differenza c'è? E se c'è differenza, perché magari uno potrebbe dire che sono alla pari, ma se c'è differenza, dove pende? Più dalla parte di Perin o più dalla parte di Gregorio? Questa è una domanda che può sembrare stupida, può sembrare unpopular, per qualcuno può sembrare pure popular. Ma è una domanda che mi sono fatto, perché io sono molto felice che l'Iventus abbia scelto Di Gregorio come post-Scesni, perché è un portiere di Gregorio che a me piace e anche tanto. Ed è stato scelto principalmente per quelli che sono anche le sue capacità di impostare il gioco con i piedi, una caratteristica che Tiago Motta pretende all'interno della costruzione della partita, della costruzione dal basso. È veramente uno dei dogmi di Tiago Motta, una delle cose più importanti nella concezione di calcio del nostro mister. E quindi Di Gregorio è un ottimo profilo, un portiere che ha fatto benissimo nelle due stagioni in Serie A che ha giocato con la maglia del Monza e poi è stato acquistato a un prezzo relativamente basso. Il punto è che noi da anni abbiamo Perin, che è un portiere sottovalutatissimo e che è un portiere che abbiamo sempre detto potrebbe giocare titolare in tre quarti della Serie A. Attenzione perché per me il discorso legato a Perin e Szczesny è sempre stato uno e uno solo. E cioè Perin quando gioca poche partite può veramente dare un'ottima continuità e quindi può in quelle poche partite esaltarsi giocandone poche. Non so se giocandole tutte sarebbe in grado di fornire lo stesso grado, lo stesso livello di qualità. Questa è una domanda che ho fatto anche a Szczesny stesso qui sul canale, ricorderete l'intervista e gli dissi guarda Buffon disse che avrebbe potuto continuare a giocare anche a un'età molto molto inoltrata ma non sarebbe stato in grado di dare lo stesso tipo di livello di prestazione all'interno di ogni partita e quindi ha sentito che era il momento di smettere. Come fa Perin invece che ne gioca così poche quando le gioca a essere sempre così bravo? E Szczesny disse la stessa cosa. non lo so perché io non ce la farei perché io ho bisogno di giocare per rimanere in forma. Se non gioco non rimango in forma tant'è che in estate quando ricominciamo le stagioni faccio sempre molta fatica e sono uno dei peggiori in campo. Questa è stata un'autocritica interessante di Szczesny ma allo stesso tempo un grande complimento per Perin perché è riuscito a immedesimarsi in un ruolo che non è mai scontato quello del secondo portiere. Ma l'altro giorno Perin cosa ci ha detto? Che non si sente un secondo portiere, si sente un cotitolare. E questo è molto bello e interessante anche perché Perin in questo inizio di stagione l'abbiamo visto tante volte e l'abbiamo sentito parlare in conferenza stampa pre partita a segno che Tiago Motto lo considera un elemento importante. Non ricordo a memoria sinceramente tante conferenze stampa prima di una partita di Champions League con quello che sulla carta è il secondo portiere di una squadra. Quindi Perin dentro e fuori dal campo oggi è un'istituzione per arrivo e tant'è che è arrivato il rinnovo di contratto fino al 2027. Sinceramente mi trovo in difficoltà a rispondere alla domanda che vi ho fatto in apertura, in apertura per modo di dire, però sul dibattito e cioè è meglio Perino o Di Gregorio perché sicuramente con Di Gregorio si fa un discorso di programmazione, è più giovane di Perin e quindi sicuramente avrà possibilità di giocare più partite da qui in futuro. Ma sull'immediato? Sull'immediato non lo so, sull'immediato davvero mi mette in difficoltà questa cosa perché sono davvero convinto che Perin oggi per la maturità che ha accumulato in questi anni, per la leadership che ha accumulato in questi anni e per quello che ha fatto vedere in questo avvio di campionato potrebbe benissimo essere il portiere titolare della Juventus e vi dico che è da ieri sera che mi ronza nel cervello questa mosca che vede un Perin che da qui alle prossime partite sarà in grado di ritagliarsi c'è sempre più spazio da titolare. Attenzione, occhio, questo discorso noi lo stiamo facendo con la Juventus che in ha due portieri di grandissimo livello e non so in quante squadre in Serie A probabilmente zero potrebbero mettersi qui a fare questo discorso e a dire quello che sulla carta è il primo e quello che sulla carta è il secondo. Non è che sono forti uguali e potrebbe anche essere non un'eresia dire che il secondo è più forte del primo in questo momento perché ha accumulato esperienza, ha accumulato leadership e il secondo può essere, il primo può essere visto quasi come un giocatore più da prospettiva e il secondo può essere visto come il titolare. Non lo so, se dovesse, la metto lì, se dovesse Perin davvero giocare contro l'Inter da titolare dopo aver giocato in Cebbi da titolare per l'espulsione di Gregorio, che ripeto per me è un'espulsione che di Gregorio ha dovuto compiere, non è una colpa essere stato espulso nella partita con l'Ipsia perché lì doveva uscire ed è stato anche molto sfortunato a toccare la palla, perché io continuo a vedere il ginocchio quando guardo Corrior Play, però sono andati al VAR meno male che poi la partita l'abbiamo in, eccetera, eccetera. Però se dovesse partire Perin titolare con l'Inter, io sono davvero sicuro di quello che vi sto dicendo, potremmo immaginarci un Perin che va completamente a staccarsi da quell'etichetta di secondo portiere che gli abbiamo affibbiato nel tempo e che lui stesso ha già respinto in conferenza qualche giorno fa dicendo sono un co-titolare. Ecco, non dico che si potrebbe rimuovere quel co, ma penso che Perin potrebbe, nel caso, aver scalato, e non di poco, la gerarchia iniziale di Tiago Motta, proiettandosi anche, magari, nel proseguo della stagione, come portiere che viene preso in considerazione per partire titolare molto più di quanto non sia già stato fatto. Ripeto, badisco, Perin in questo momento, in questo inizio di stagione, ha già giocato tante partite, le partite prima della Champions, la partita di Champions, anzi le ultime due, dato che poi è anche entrato, ha parato un rigore in Champions, dovesse partire titolare anche in campionato nella sfida contro l'Inter, vi dico la verità, inizierei a pensare che nella testa di Tiago Motta possa essere accesa una piccola lampadina che gli fa dire, secondo portiere? No, assolutamente no. Poi sono convinto che ci sarà questa continua rotazione tra lui e Gregorio, perché a Tiago Motta piace far ruotare portiere, lo sapevamo già dai tempi del Bologna, quindi non è una novità, non è una sorpresa questa. Sarebbe una sorpresa vederlo molto più in campo ancora di quanto non sia già stato fatto, e lo dico per la terza volta, l'abbiamo già visto tanto Perino in questo video di stagione. Cosa ne penso di questa cosa? Ma in controtendenza con tutto quello che ho sempre pensato io da ignorante, perché non sono mai stato un portiere e sicuramente mai stato un portiere di alto livello, o mai immischiato all'interno di una squadra alto livello, a livello professionistico, ma nella mia concezione umile del calcio ci vuole un primo portiere, ci vuole un secondo portiere, tutti devono essere consapevoli del ruolo che è, deve esserci una gerarchia definita, così come la gerarchia definita deve esserci sul capitano, quello il capitano, poi c'è il vice capitano. Tiago Motta prende questi due dogmi, perché per me sono sempre stati dogmi, perché sono sempre state cose scontate, c'è il primo portiere, c'è il capitano, e li distrugge completamente, li disintegra, li prende e me li strappa davanti, e con i coriandoli mi soffia pure, tutti questi pezzettini mi scivolano in faccia e mi fanno dire, devo mettermi in discussione. Questo pensiero che ho sempre avuto probabilmente va affrontato e visto in un'ottica differente, più moderna, e sicuramente tutta di Tiago Motta, perché io non sto facendo un rapido conto mentale, io credo che in Serie A Tiago Motta parte, nessun altro allenatore vada a toccare così tanto la gerarchia dei portieri o vada a toccare così tanto la gerarchia dei capitani. Le dico in Serie A perché ho il quadro un po' più chiaro della situazione in Europa, farei un po' più fatica, ma anzi chiedo il vostro aiuto, scrivetemi nei commenti quanti in Serie A e quanti in Europa sono come Tiago Motta da questo punto di vista, e cioè portiere e capitano sono concetti astratti e non concreti. Non mi vengono in mente tanti altri allenatori, e anche questa è innovazione, anche questo bisogna essere pronti ad abbracciarla e comprenderla, condividerla magari no, però comprenderla. Io sto cercando di entrare in punta di piede nel mondo di Tiago Motta, è un mondo molto particolare, è un mondo che veramente mette a nudo tutte quelle che sono state le mie credenze, le mie convinzioni degli anni passati, da tanti anni appassionato di calcio, e mi fa dire, senti ripartiamo da zero, facciamo tabula rasa, i paletti che avevi toglili, cerchiamo di inserirne dei nuovi, molto più flessibili, e questo è interessante, l'amante del calcio questo è molto interessante, ma ho già parlato troppo, sono già andato troppo oltre, e credo di avervi spiegato il mio pensiero, e cioè che oggi Mattia Perin può vedersi come titolare della Juventus, può assolutamente farlo, e non perché Di Gregorio sia scarso, non perché sia stato un errore la questione di Di Gregorio, lo torno a dire, questa è una grande fortuna per la Juve, non è un limite, e con un allenatore come Tiago Motta che queste cose le vede con un punto di vista tutto suo, può diventare ancora di più un valore aggiunto. Sono curioso di sapere la vostra opinione nei commenti, ciao a tutti ragazzi e a domani con la conferenza stampa pre-Inter-Juventus.